Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano. Ci occupiamo poi della riapertura delle scuole. Tra paura e polemiche i cittadini intervistati questa mattina da TV City sono favorevoli al ritorno tra i banchi. E dall'Istituto De Nicola Sasso arriva una petizione per chiedere che anche il corpo docente sia incluso tra quelli che rientreranno prima nel piano vaccinale. Poi la politica cittadina con la nascita di Alleanza Democratica per il fare civico, un nuovo gruppo consigliare di ispirazione moderata. Spazio anche alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza in chiusura. L'iniziativa dell'Associazione Prima Aurora che questa mattina ha piantato un albero all'Istituto De Nicola Sasso. Questo e molto altro. Guardiamo i servizi. 10 nuove guarigioni sono state registrate ieri a Torre del Greco, certificate anche 26 casi di positività al Covid-19, di cui 3 in regime ospedaliero e 23 in isolamento domiciliare. Ha attestato anche il passaggio di un soggetto positivo dal regime ospedaliero all'isolamento fiduciario. Muta dunque il bilancio dei contagi a Torre del Greco. Sono 27 i soggetti ospedalizzati, 294 posti in isolamento domiciliare, 2.406 guariti e 79 deceduti. A Torre Annunziata sono 60 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrate nel giornale di lunedì 11 e martedì 12 gennaio. Al contempo si certificano anche 24 guarigioni. Sale a 221 il numero di cittadini attualmente positivi, 212 posti in isolamento domiciliare e 9 ricoverati. Sale a 1.606 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1.354 guarite e 31 decedute. È polemica sulla riapertura scuole in Campania. Che cosa ne pensa? Le scuole devono riaprire oppure no? Io penso che devono riaprire perché questi ragazzi stanno avendo troppi problemi, sia psicologici, sia sociali, con altri amici che non riescono ad andare avanti. Certo, c'è un po' di preoccupazione, però credo che comunque bisogna iniziare a fare qualcosa. Per me è giusto che rientrino. Non possono fare lezioni così. Parlo da ex insegnante, da pensionata. Quindi non vedo il rischio. Quindi è giusto che rientrino per i rapporti tra i bambini, tra i docenti e i bambini. Non va bene così. Non si può fare lezioni in questo modo per tanto tempo. Per quanto riguarda invece la didattica a distanza, ecco, lei da ex insegnante, che cosa ne pensa? È pro o contro? Diciamo che durante l'emergenza sarà pure stata utile, ma non è un modo di insegnare che può durare per tanto tempo. Assolutamente no. Bisogna guardarli negli occhi i ragazzi per capire, per lavorare bene. Non si può farlo attraverso un monitor. È giusto che i bambini tornino a scuola perché così possono socializzare. Cosa ne pensa della didattica a distanza? Lei è pro o contro? Non è la stessa cosa. Come ho detto già prima, i bambini non socializzano così. Quindi è bene che vadano a scuola. È giusto che i ragazzi e i bambini tornino a fare lezioni nelle aule, secondo lei? Per me sì, perché comunque escono sia con i genitori, quelli più grandi, poi non ne parliamo, vicino ai bar. Quindi è importante per me che tornino a scuola. E poi la scuola è sicurissima, perché mio marito lavora a scuola, c'è igiene, c'è tutto. È più sicura la scuola che fuori. Cosa ne pensa della didattica a distanza? Può sostituire la scuola tradizionale, secondo lei? Sì, per poco però. Cioè è importante che ora si torni a scuola. I ragazzi chiedono di essere guidati, i giovani devono essere guidati, assolutamente. Quindi perdere questa occasione. Poi io ho insegnato sempre in licei. È assolutamente importante, devono tornare a scuola. No, perché stanno nei bar, le riunioni in casa, quelle sì. È la stessa cosa per lo sport. Da ex docente invece che cosa ne pensa della DAD, della didattica a distanza? Può veramente sostituire la scuola tradizionale, secondo lei? Importante la tecnologia, il web, tutto quello che voglia. Però anche in questo caso i ragazzi devono essere guidati. Ma può essere un supporto, ma qualche cosa tipo una volta alla settimana, due volte alla settimana. Ma non è possibile questa situazione. Mi rendo conto, la pandemia, tutto quello che c'è, disastri, però dobbiamo pensare anche alla scuola. Non capisco perché si deve continuare ancora, perché andrà ancora avanti per anni. Allora le immagini, io penso, soprattutto i ragazzini nelle prime classi e le elementari. Ma il danno che avrà un bambino nelle prime classi e le elementari, un lavoro dell'elementare è fondamentale. Non lo recupereranno più. Giustissimo, perché io che sono una professionista sanitaria, sono una logopedista e quindi lavoro con bambini con disturbi di apprendimento, io in questo periodo i bambini sono enormemente peggiorati. Quindi non ho bisogno di regole, non ho bisogno di contenimento, non ho bisogno del rapporto con i coetane e soprattutto del rapporto con le maestre. Quindi lo trovo assolutamente giusto che ritornino a scuola. Cosa invece pensa della didattica a distanza, signora? Può sostituire veramente la scuola tradizionale, secondo lei? Assolutamente no. Può sostituire soltanto in parte, ma veramente in minima parte. Quello che i bambini acquisiscono a scuola, quindi le dicevo le regole, il contenimento, il rapporto con i coetanei, non possono sicuramente averlo dalla DAD per niente. Cioè è una minezza riscaldata, è una sorta di beneficio davvero molto minimo. È un modo per continuare a avere il rapporto con i bambini, ma non è assolutamente la stessa cosa. Il vicepreside e docente dell'Istituto Comprensivo De Nicola Sasso, Giuseppe Romano, scrive al Ministero della Salute la sua richiesta di far rientrare quella dei docenti tra le prime categorie a cui destinare il vaccino e invita a firmare la petizione da lui promossa affinché venga accolta la richiesta. Ho fatto su change.org una richiesta per aprire una petizione rivolta a tutti i docenti, di qualsiasi ordine e grado, perché sono convinto, questa petizione l'ho indirizzata al Ministero della Pubblica Istruzione e al Ministero della Salute perché sono convinto che la categoria dei docenti debba essere considerata in maniera prioritaria subito dopo quella dei sanitari, in quanto noi siamo esposti a grossi numeri tra alunni di tutti gli ordini scolastici e quindi anche forse in maniera prioritaria rispetto ad altre categorie, anche magari gli ultraottantenni che stanno a casa fondamentalmente, noi docenti abbiamo la necessità di avere questo riconoscimento. Quindi è importante che tutti possano firmare questa petizione. Vicepreside, qual è stata la motivazione che vi ha spinto a scrivere al Ministero della Salute? Una delle motivazioni più importanti, oltre a quello di esporre la nostra categoria, è stata anche quella del nostro carissimo collega Francesco Caterino che ha perso la vita per il Covid qui nel nostro istituto, è stata una delle prime vittime della nostra categoria, del nostro istituto, per cui anche il ricordo della sua persona, della famiglia nel rispetto della sua professionalità, mi sono sentito spinto anche da questo pensiero. E quindi a maggior ragione chiedo veramente a tutti di sottoscrivere questa petizione, per dare voce anche a chi purtroppo la voce l'ha persa per via del Covid. Nasce a Torre del Greco un nuovo gruppo consigliare. Prende il nome di Alleanza Democratica per il fare civico ed è promosso dai consiglieri Michele Langella, Lucia Vitiello e Aniello Formisano. Il gruppo, nato ufficialmente ieri pomeriggio, ha visto già le prime adesioni illustri. Confermata la partecipazione di Enrico Pensati, del presidente di fare civico Felice Nocerino e dei responsabili cittadini di Alleanza Solidale. Alleanza Democratica si presenta come un accordo politico-programmatico di chiara ispirazione moderata. Priorità del neonato gruppo è la necessità di promuovere efficaci politiche di sostegno alle attività economiche e produttive gravemente colpite dalla crisi pandemica. Il rilancio delle periferie e condivisione di un programma infrastrutturale che mette al centro una innovativa concezione del porto e dell'intera fascia costiera. Sul piano della proposta culturale l'obiettivo principale è quello di promuovere ogni azione utile finalizzata all'individuazione di un'area da destinare stabilmente alle compagnie teatrali e al mondo dell'associazionismo culturale. Un progetto che lo stesso Formisano cerca di portare avanti personalmente da anni. Un programma che, almeno sulla carta, vuole far fronte alle necessità più contingenti derivate dalla grave crisi che la città e il paese stanno vivendo da inizio anno per poi puntare ad una riqualificazione e rilancio del territorio. Un gruppo consigliare che, tuttavia, viene a crearsi in un periodo difficoltoso per i vertici dell'esecutivo con una maggioranza sempre meno coesa. Una novità del genere potrebbe spostare ancora in più gli equilibri, visto che lo stesso Pensati, ex assessore probabilmente prossimo alla riconferma dopo l'azzeramento dell'aggiunta del 7 gennaio, è stato fra i primi ad aderire alla nuova corrente. Il gruppo della Guardia di Finanza Ritorre Annunziata ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di oltre 144.000 euro nei confronti di una società operante nel settore del trasporto di merci, con sede legale a Gragnano. Si contesta il reato di omesso versamento di IVA. La misura cautelare patrimoniale è stata adottata all'esito di accertamenti di natura economico-finanziaria sviluppati dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, avviati a seguito di una verifica fiscale che ha permesso di ricostruire a carico dell'ente economico l'omesso versamento della somma di circa 375.000 euro, quale debito IVA accumulato nell'anno 2016 nei confronti dell'erario. La condotta emersa, oltre al mancato versamento dei tributi dovuti, ha fisiologicamente comportato un risparmio di imposta che nel corso del tempo aveva consentito alla società verificata di ottenere una posizione di rilievo nello specifico settore commerciale. Il provvedimento eseguito ha portato al sequestro di consistenze finanziarie, quote societarie, un veicolo, un immobile ed un box-auto per un valore complessivo di oltre 144.000 euro nei confronti della società e del rappresentante legale della stessa. Iniziativa nobile è quella dell'Associazione Prima Aurora che ha deciso di donare alberi a tutte le scuole di Torre del Greco. Questa mattina le telecamere di TV City hanno documentato l'evento presso l'Istituto Comprensivo di Nicola Sasso. A piantare l'albero, il presidente dell'Associazione Prima Aurora, Silvano Somma. Abbiamo deciso di piantare un alberello in ogni scuola di Torre del Greco e in tante altre scuole del territorio proprio come segno di rinascita e abbiamo per questo motivo deciso di piantare una specie autoctona, un corbezzolo che tra l'altro è anche il simbolo oltre dell'Italia stessa poiché i colori ci rimandano proprio a quelli della bandiera ma anche proprio della rinascita del Vesuvio perché con il Vesuvio deve rinascere l'intero territorio. Abbiamo deciso anche poi di mandare un lettro ufficiale al Ministero dell'Ambiente e dell'Istruzione affinché questa idea di regalare nel periodo natalizio un albero alle scuole possa essere diffusa a livello nazionale. Riforestiamo il gigante, di che cosa si tratta? La tematica è molto affine appunto a quella del piantare alberi nelle scuole e questo qua ha come obiettivo principale quello di rinaturalizzare le aree del Parco Nazionale che si sono incendiate nel 2017 nel tragico evento che tutti noi ricordiamo. Abbiamo quindi portato avanti questo progetto insieme ad altre 40 associazioni insieme diciamo anche alla collaborazione anche del Comune stesso e quindi in questi giorni avranno inizio proprio le prime fasi quelle della messa a dimora degli alberelli. Per ora circa 800. Grazie all'associazione Primo Aurora stamattina sono state piantate dei corbezzoli donate alla nostra scuola sia al plesso Sasso che al plesso di Nicola la nostra sede centrale. L'iniziativa è veramente da elogiare anche perché permette ai nostri alunni di avvicinarsi al rispetto dell'ambiente. Ci saranno anche altre iniziative sempre organizzate da questa associazione Primo Aurora e diciamo che il corbezzo, quindi l'albero regalato e donato alle scuole della città è simbolo di rinascita, quindi è un sempreverde. Quindi speriamo che ci saranno altre iniziative perché so che questa associazione sta facendo molto anche per far rinascere proprio il Vesuvio dopo tutti gli incendi che ci sono stati in passato. Quindi speriamo di vedere rifiorire il verde nella nostra città e anche sulle falde del nostro Vesuvio. Quindi speriamo in altre altre iniziative perché il nostro intento è anche di portare i nostri alunni sul Vesuvio, quindi appena sarà possibile organizzare questi mezzi di trasporto perché adesso ancora siamo in piena emergenza quindi non sarà facile. Magari dopo la famosa vaccinazione del personale scolastico e anche degli alunni stessi finalmente possiamo ritornare alla vita normale quindi anche riuscire a goderci il nostro ambiente, quindi anche il nostro verde che abbiamo tanto verde qui nella nostra città. Grazie. Grazie mille. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale prima di salutarvi come sempre vi ricordo i nostri contatti utili l'email redazione chiocciolatvcity.it o il numero di telefono 340 6561 484 con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.